Salve a tutti ragazzi, eccoci insieme. Oggi giocheremo a questo gioco che si chiama DaCardDeading Simulator, che è un gioco in cui dovremo lavare le auto. E quindi iniziamo subito. Come potete vedere Ah sì, beh sì, come potete vedere, che ho fatto di salvataggio e fare delle prove diciamo di di programmazione. Adesso vedremo come girerà Grazie 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 Tutto da kraschio Grazie a tutti. Bene. Adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene. Grazie a tutti. Andiamo a strizzare il panno perché sennò si riempie d'acqua. Il panno non morisce più bene. E' la mia indica. E' la mia indica. Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Così. Ok. e ricominciamo da capo quindi qui dobbiamo comprare tutto quanto e fa tutto da capo bene ragazzi io vi saluto al prossimo video faremo un altro lavaggio poi vedremo cosa verrà fuori spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se volete che continuo faccia la serie o altro e come solito condivete commentate e iscrivetevi aiutatemi a crescere se potete cercherò di fare i video quando avevo tempo perché purtroppo non ho tantissimo tempo e quindi alla prossima ciao a tutti ciao ciao